Yugi a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale allora oggi siamo come al solito nel nostro video lotto perché diciamo che mi è arrivata un po di roba ultimamente quindi è ora di fare un bel recap di tutto quello che ho preso questo è un lotto dei ritiri un po un po di roba mix se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball one piece force will e digimon e finire in questa serie di video vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il mio instagram contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo procediamo inizierei da quella che so essere palta quindi non questa qua c'è roba interessante neanche questa che c'è roba ancora interessante ma questa sfilza di carte qua dietro che probabilmente hanno visto tempi migliori e non solo schifo cioè ragazzi le carte so tonde so tonde veramente allora vediamo se ci sono altre si qua dietro diciamo che queste stavano dentro un sacchetto che vi faccio vedere stavano all'interno di questa busta insieme alla mia carta di dragon ball e roba di wrestling cioè spazzatura io sto tentando di liberarne se qualcuno le vuole gliele regalo basta che mi paga la spedizione allora nel pratico abbiamo senza perdere tempo mix di roba random veramente rovinata e brutta inutile cioè ragazzi questo è il livello delle carte senso io ad un ICS ho portato una carta del genere ad un negozio tedesco ovviamente era una carta che aveva senso di essere chiamata carta ma in queste condizioni loro l'hanno vista e hanno riso ovviamente noi ho portato quella hanno preso il mio album hanno guardato c'era quella stessa cosa ragazzi ah no aspetta qua c'è robina forse un pochino interessante però il resto guardate 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 la palta guardate la palta un sanghan se non sbaglio da qualche parte ci dovrebbe essere anche un ricastro goblin con tipo una scritta a penna va bene questa è la stessa cosa ecco il livello queste proprio sono le carte di una persona che ha giocato a yugi 20 anni fa non aveva le sleeve non sapeva neanche cosa fossero se esistessero e quindi le riduceva in questo modo va bene ci si ragazzi tocca tocca caricare questa sul market come pur per forza poi abbiamo queste guardate guardate quanta bella robetta in condizioni mix e varie guardate mamma è bene avete viste a posto leviamocele dalle scatole e andiamo sulla roba più interessante andiamo quel mucchietto che ho levato che ho visto un paio di foil forse c'è roba più carina vabbè a parte queste che sono le solime lite minchiate abbiamo un starving venom so che non sta niente ma è buona da tirare i super poli questa da mamma poi un po di roba da prio mp 22 roba palesemente anche questa distrutta comunque nel sacchettone dove stavano queste carte ho trovato anche un paio di cartine umane non era tutta immondizia ma nel senso le condizioni era quelle poi vediamo qua abbiamo un po di verno silfide questa è in crucco che vabbè roba naturia playset in crucco che fai te ne privi no assolutamente andiamo col resto abbiamo rose vabbè il kaiju un paio di raie playset di raie onesto uh un enforcer da bode in americano è molto bello perché nel senso quando l'ho ritirato sono andato a vedere sul market stava una cosa come 15 euro una roba del genere bene io quello in inglese tipo a gennaio scorso l'ho venduto a 100 che bello il mercato di yugi tanta roba e andiamo con un altro mucchio di carte e vediamo cosa c'è che io neanche ricordo cosa ho preso sinceramente abbiamo bigfoot giacalop in americano molto bellino peccato che non è secret ma comunque è sempre da pack abbiamo regina tirami su lava golem poi abbiamo un eroe sopravvive un paio di boccioli di fuoco solitario dedizione celestia il creatore arcidemone drago rosso nella lingua più bella del mondo abitante re delle paludi tomba contro alla mente un po di roba spiral denko secca quello che mancava di sky probabilmente poi vabbè roba random a caso che non sta in casso yazi vabbè carino poi abbiamo numero 105 eroe malvagio alla infernale bellini in prima corno cyberoscuro in prima però è rovinato peccato gatto squallo preda pianta roba goti tanto per non dimenticarsi l'anno scorso roba virtual poi il custode di tombe cyber giara la prima donna da etko spaccacielo sera non vedo l'ora che escono gli strutti per voi saranno già usciti quando l'ho registrato non vedevo l'ora che uscissero gli structure poi abbiamo doppio abitante dell'abisso da oppi che anche questi sono buoni ma penso dweller è una delle poche carte che no è l'unico xys 4 insieme ad exiton che si sta rivalutando che è riuscito a sopravvivere all'era di link poi abbiamo re delle paludi super lulu in italiano avanti di peso oceano drago dettalo in inglese in prima ragazzi perfetto questo è proprio una bella carta tanta roba poi abbiamo la gire castoro mondo zombie affari lancea duelle roba necroz roba sky brionac e trisciula secret anche questi bellini me cavaliere del cielo blu da exfo vabbè due trick star e un altro diagramma tanto perché ce n'ho pochi quindi ammucchiamoli su ragazzi fortuna che sti giorni ho comprato altre scatole per tenere le carte perché altrimenti non sapevo più dove metterle perché le scatole non so neanche quelle dove metterle però diciamo che se tira avanti prima o poi vi farò un home tour di camera mia per farvi vedere che condizioni abito attualmente allora andando avanti abbiamo roba di mp bode e pote double liov e tutte quelle menate lì quindi non le andremo a vedere allora 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 vediamo questi poi abbiamo anche qualcosa di one piece da vedere allora abbiamo quel minimo di roba umana uscita dal sacchettone e vediamo allora abbiamo vabbè a parte un po de palta che era rimasta qua abbiamo questa palese carta per got questa è da tp distrutta ma è da tp sempre poi vabbè e ugoci nobiluomo con tipo 65 milioni di pressioni ma dettagli alla grifone livello limitare a b che sfortunatamente una pure un bellissimo segno a penna peccato che è una carta che inizia a costicchiare anfora un altro livello scambio cose a caso sono riuscito a raccattare su da tutta quella palta poi abbiamo della robina dei pokemon diciamo che la roba più bellina è questa energia cosmolo poi vabbè è bello questo onyx ma anche lui ha visto tempi migliori questo casform di 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 non ricordo quale set ma le più grandi soddisfazioni arriveranno dopo e sono questa molto bella cioè considerando che stava nel sacchettone però ovviamente le condizioni sono queste e questo delibird sempre cosmolo però ovviamente con dei seri problemi anche poi vabbè il resto è palta vabbè c'è questo dragone nero occhi rossi da mp 22 onesto questo gattino a molla ulti anche se lo reprintano lava golem questa è altra roba che ho preso non stava all'interno del sacchettone poi andando avanti abbiamo altra palta incredibile da set nuovi diamoci subito ai coglioni e andiamo con credo l'ultimo un chietto di roba buona prima di passare ai deck box e alla roba di one piece bene ho già levato la roba common nuova tanto non aveva senso di essere vista e passiamo la roba un minimo più interessante abbiamo allora nobili cavalieri fratelli girsu rai jacky risucchiabilità questo che ragazzi è pure in prima proprio una bella carta l'unica cosa è che ma ve dirò pensavo fosse messa peggio diciamo è un good diciamo che però è iconica e non ha ristampe abbiamo poi max pack a metallo grande neossero elementale anche questo ultimate peccato un po per i bordi poi scontro gozen da isu 2 per chupacabra che ragazzi questa sta toccando prezzi senza senso poi il terzo re delle paludi e poi qua vabbè bryonac roba a caso tipo 20 errore poi vabbè regno rosso roba antichi guerrieri e vabbè per il resto credo sia tutto mamma e il mamma brutto poi neanche quello bello con gli swarzel ragazzi prima di passare a one piece e alla roba di yugi che costa vi chiedo gentilmente di iscrivervi perché siamo a 2200 iscritti e sarebbe bello arrivare a 3000 il prima possibile inoltre qua sotto in descrizione trovate anche instagram e twitch sulla prima sono abbastanza attivo sulla seconda ci sto lavorando e a breve arriveranno dei contenuti pure lì detto questo continuiamo allora per quanto riguarda one piece non ho niente incredibile ho vabbè roba veramente brutta presa dall'anime ragazzi parliamone penso che la cosa più bella sia questo però nel senso ho un bel don flamingo foil poi ho king mi sfuggiva il nome e boh non ci vado matto mi sarebbe piaciuto prendere qualcosa del cioè con le tavole del manga però non credo abbia niente poca roba tipo questa però vabbè o comunque nel senso anche se carte così disegnate di x drake non so male poi vabbè sì questa è bella ma scena fa schifo queste un po così bello beppo che ci sta poi vabbè un artwork terribile di oden scratchman ragazzi nell'anime non ha le tette così grosse cioè non vorrei dire poi vabbè per il resto penso sia tutta palta qua sarebbero da ridisegnare che secondo me potrebbero fare pure meglio questo ok questa ci sta vabbè ragazzi qua di che stiamo a parlare troppa roba questa palese mamma degli amato poi abbiamo jack che è molto carino queen che vabbè da denuncia penale per il resto boh un kaido eh jack omoria bellino oppure bartolomeo vabbè robetta easy il tipo che me la date ho fatto del suo album porca troia c'era roba che costava più di quanto costa la collezione mia dei yugi questa cosa mi spaventa perché cazzo è un gioco che non ha neanche un anno i prezzi so senza senso una namiche no shanks in rosso che costa 1500 euro parliamone secondo me c'è qualche problema di fondo è allora questa non è roba di un lotto è roba giapponese poi andiamo qua e vediamo cosa abbiamo da vedere abbiamo un drago bomba topologica mago a tre porte verte che quando la sbandita mai che me ne entrasse una poi vabbè roba sei verso trasmodificatore drago xd far firewall da dare molto bellino che se non sbaglio nei team è super poi credo qua tutta palta generica sei verso credo sì sì non c'è niente di carino poi abbiamo un vampiro scarlatto bam da dasa poi trucca stella cecuta in due per candina vento perso e basta questo di joy però vabbè vediamo 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 un altro andiamo con questo già vedo una cosina carina bam abbiamo un dragoon da mp20 poi abbiamo spettralici il signore del dorato zeus da pack da fira che ragazzi è salito a stecca io l'ho comprato in inglese st'estate l'ho pagato 25 euro quello in italiano già costava di più e adesso con l'inglese sta a 45 che stonks che ho fatto poi abbiamo glorioso soldato nero soldato del caos sempre da pack artemis da james vabbè uranio link al mirage da duov poi cannone ferroviario super corazzato cannone ferroviario libri vabbè quello che mi permette di cappa con machine poi pleiades poi vabbè roba eldritch con spettra terra maledetta guardia nella terra dorata e vabbè tutto il resto praticamente vabbè attualmente poi sta poco niente è stato tipo tutto reprintato vabbè poi repartino dragoon poi abbiamo risucchiabilità colpo solenne bel ogre ash come se mi mancassero le entrap richiamato dalla tomba ciclone cosmico gamesiel padrone dei teschi veil bella poi il playset di jara poi abbiamo caliga beyond numero 49 poi qua credo virtual world se non ricordo male abbiamo shenshen si juju stardust charge ala cristallo da pack bello in prima che questo non è per nulla male poi abbiamo fanfan da fira soul king m7 drago gaia tutto virtual world tutto in inglese poi ovviamente ci stanno le lulu in spagnolo se avete visto il video fatto con michele capite perché ci memmiamo sopra poi poi vediamo qua potrebbe esserci qualcosa di carino abbiamo dasher celestia le destiny fusion poi a che drago ribellione occhi diversi peccato che l'hanno reprintato ed è sceso di prezzo perché sennò è fighissimo è un cosacco che non fa mai male roba pendolo ma terribile questi sono carini questi ci hanno monoprint e sono saliti tipo a 4 euro poi abbiamo una coppia di alleanza del duellante poi è il dorado e credo sia da palta per il resto a questa roba di dragon ball che è un po vergognosa ma i dettagli allora allora andiamo con l'ultimo prima dell'otto abbiamo un sariuja che io non riesco assolutamente in nessun modo da averlo in inglese né in italiano poi abbiamo vabbè reparto bistial ho preso questo probabilmente me lo terrò per me per farci alcuni video sul canale roba random il resto della roba necroz poi qualcosa di virtual e di sky poi abbiamo roba demon eterno praticamente i verna silfide tipo erano i miei l'avevo dato io poi mi sono tornati poi tre necumane roba vabbè bella un paio di giudizi solenni distrutti spolverino distrutto poi vabbè abbiamo zelantis apocalisse nel vuoto e unicorn da mp19 ultra bellino poi un android natura barchion bestia e basta questo doppi 15 detto questo andiamo nella parte cicciosa quella bella quella incredibile prima di tutto abbiamo un pacco di sleeves vabbè sono belline ci sta poi abbiamo tutta roba in top loader ovviamente col cazzo grosso e andiamo a vedere allora non vorrei romperli grande allora abbiamo un play set di nibiru da brawl in inglese devo vedermi come sono perché nel caso li sostituisco poi abbiamo abbiamo un altro play set di cosa è a sto giro tre soldato galattico in italiano anche questi molto buoni devo controllare anche questi di se ce l'ho ma credo di no poi 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 abbiamo un dark molto bellino in americano questo me lo tengo talese sta 5 euro me lo tengo per me rega cazzi poi abbiamo un altro play set credo abbiamo numero 89 in americano bellino il secondo e a tutti e tre top andiamo con un altro top loader potrebbe essere un altro play set che poi le sleeve sono anche sleeve de classe abbiamo rai jacky un altro play set di rai jacky secret che è col cazzo che gioco quelli che escono dallo structure trap tricks che sono common se si gioca si gioca in qualità altro play set credo abbiamo pada sacra delle sette stelle in play set credo anche in american o solo una probabilmente solo la prima no la prima e la terza può essere boh vabbè però play set onesto vediamo le condizioni sono perfette voilà pure in prima tutte e tre top allora me lo sono spoilerato vediamo abbiamo due qua abbiamo un engage secret sembra americano vabbè e no ragazzi sta fodera incredibile vabbè e shizuku in inglese teoricamente ragazzi potrei portarvi una deck list di sky il problema è che mi mancano le i supporti nuovi che sono usciti da mamma allora qua abbiamo un un'altra shizuku e a questo giro confido una terza che è sì play set di shizuku secret allora andiamo avanti abbiamo un quell'erba sembra più verde molto spesso ho sentito dire dal mio spacciatore nei confronti di un altro abbiamo uno due un bel play set anche di questa che comunque non si disdegna vabbè questo ormai fuse per sempre probabilmente avete visto anche cos'è 12 abbiamo queste che sono l'avete viste un play set di visa star frost confido che il mazzo che uscirà nel prossimo set manadom sia non so se è già uscito manadom vabbè nel senso spero adesso che sarà meta poi abbiamo altre due che sono due thunder dragon colosseum pagate un botto in americano amen soprattutto perché sono totalmente inutili adesso ma dettagli questa è poi un giuramento antichi guerrieri che attualmente si aggira sui 7 8 euro tipo e quest'altra che è un altro giuramento cavolo ero convinto ce ne fosse uno solo andiamo avanti abbiamo spero un play set play set americano da dual terminal mio basta andiamo col prossimo abbiamo vediamo penso sia un altro play set play set di max c gold che ragazzi io non so più neanche io quanti ne ho boh e io che continuo a prenderli sperando che prima o poi li sbaglino ma a questo punto mi arrendo non so c'è veramente tra secret super comuni ce ne avrò una roba come 30 una roba del genere vediamo qua sono due per meta verso questo messa che me lo tengo a due meta verso tutti due da speed duel che costano tipo una fracca vediamo questo spolverino in americano da lcw molto bellino allora ci sono qua delle carte sfuse vediamo abbiamo un play set di heavily prison in americano anche queste 10 cad benestissime abbiamo due per di queste che sono branded red e galaxy ice prime photon dragon anche questi in americano in prima andiamo col prossimo abbiamo un bel due per di compulsory tutte e due secret peccato che non posso giocarli da nessuna parte perché sono veramente belli anche nei formati forse in edison credo di sì vediamo nel caso me lo tiro lì poi abbiamo un infinity peccato che non è da bosch vabbè comunque bello nm in prima per concludere abbiamo un bel play set di lancea in americano è tanta roba veramente tanta roba queste perché ne ho un play set secret però queste queste fanno la loro porca figura mi sa che mi tengo queste e vendo quelle altre comunque ragazzi nel caso vi servisse qualcosa trovate tutto nel mio link di car market che trovate sempre qua sotto in descrizione detto questo ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento secondo voi qual è la carta più figa che ho preso a sto giro detto questo ragazzi state mesi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti